Una proposta importante per la città, ci sono diverse iniziative, intanto come analizza l'attuale momento politico e amministrativo? Teo Gentile è un esponente di Cittadini per Cicli. Intanto porto i saluti del Movimento Tutto e ringrazio voi per l'opportunità che mi date. Cittadini per Cicli è stato uno dei movimenti civici che hanno creduto nell'iniziativa del sindaco Giannone, siamo stati forse l'amalgama che è riuscita a intavolare questo gruppo di liste civiche che poi sono riusciti a portare Enzo Giannone in amministrazione e chiaramente noi siamo in amministrazione con un assessore e due consiglieri e stiamo sostenendo per quello che possiamo questa amministrazione che chiaramente sta operando nell'ambito dell'emergenza, ricordo a me stesso che veniamo da uno scioglimento, da un commissariamento che chiaramente ha fatto tanto male da un punto di vista della gestione del comune e quindi tutto quello che si sta riuscendo a fare lo dobbiamo vedere in un'ottica di eccezionalità. Sotto questo profilo ritengo che l'amministrazione sta andando bene, sta superando il gap iniziale di quando si è arrivati e sta cercando in un primo momento di superare le criticità fondamentali di quelle che sono le emergenze. Ritengo proprio che dopo l'estate e quindi passando il periodo caldo si incominceranno a vedere i primi progetti a lunga città. Nei prossimi mesi dunque si potranno vedere i primi passaggi importanti per costruire nei prossimi anni qualcosa di importante, di significativo per la città? Sì, e allora chiaramente ritengo che non abbiamo grandissime aspirazioni di fare opere ciclopiche, l'importante è quello di riportare Scigli alla normalità. Intanto ho parlato con l'assessore al bilancio, il primo passo fondamentale su cui Cittadini per Scigli ha sempre creduto anche nel periodo pre-elettorale era quello di evitare il dissesto. Sicuramente quantomeno la strada per arrivare a questo c'è, mi riferivo all'assessore che è pronto già in rendiconto 2015 e 2016 già preparati, a breve sarà presentato il bilancio, si sta procedendo in gestione provvisoria, quindi capite bene che riuscire ad onorare gli impegni senza andare in default, in gestione provvisoria, quindi l'impegno è tale e i risultati sono ottimi. Per quanto riguarda gli obiettivi c'è un programma molto vasto, torno a dire a lunga cittata ma non enorme, certamente dopo aver ripianato quelli che sono gli elementi essenziali di criticità potrà l'amministrazione con un po' di serenità pensare a prospettazioni future e di ampio respiro. Dal punto di vista della promozione del territorio, del turismo, quale è lo scenario che immagina il movimento civico Cittadini per Scigli? Allora intanto già siamo soddisfatti di quello che abbiamo ottenuto, devo dire la verità di viaggio a Scigli, viaggio di suo, però noi abbiamo attenzionato e per questo fungoliamo parecchio l'amministrazione a curare anche i particolari perché non è sufficiente vivere di luce riflessa, secondo noi bisogna andare a calibrare adesso con mette a disposizione di servizi precisi a quella che è la richiesta del turismo di massa, ma non proprio di massa perché il turismo di Scigli, attenzione, incomincia ad avere una sua qualità, quindi noi chiediamo che non dobbiamo semplicemente recepire passivamente questa manna che ci sta arrivando, ma creare i presupposti per migliorarla.